Grazie a tutti. Il secondo è il monumento, il monumento potrà attaccare Poggio, terzo e storte, quarto Poggio, quattro giri, vi ricordo che passiamo al primo, c'è il pilare dentro, c'è il pilare dentro, c'è il pilare dentro, c'è il pilare dentro storte, vediamo un po'. Il secondo è Poggio, primo storte, secondo Poggio, terzo, io scusate, primo Poggio, secondo Poggio, terzo storte, vediamo un po' come va a finire Poggio ora, perché non si vede bene, forse così. E' ancora avanti, Poggio, secondo Poggio, terzo giro, questo è l'ultimo di fare, giusto? Eh sì, il quarto è l'ultimo di fare, giusto? Ha vinto Poggio, scusate, ha vinto Poggio, mi stanno masserrando, scusa ma fa male o sì? Bene? Va bene, allora io aiuto e vado a fare l'intervista a casa, la più bella di tutti. Mi ricordo, ha vinto Borgo, Carlo Sanna, con Tupo, secondo Poggio, con Giuseppe Zedde e quanto va lì? A fra povere, a fra prossima!